Vedi che io tambien soy del Perù. Voi andrò in maniera e mi voglio essere cittadano del Perù. Però non voglio chiedere la parola che è il Perù. Lo devo cercare. Primeramente è che mi introducirmi Il nome è Radio. E sono il mondo dell'America. E sono il campione internazionali della Federazione Lucha Libre. E anche di questo, io sono il futuro del Reino of Honor. Quiero dire che sto per la parola del Salatino. Perché questo è verano a pesca. È un'altra persona che mi odia mai. in questo luogo, a parte del antecaballero, è un vievo decreto. Chichi sta. Chichi sta. Chichi sta. Raios, quando io ero campeoneo mondial, tu eras in la poda di tua mamma. Ohhhh! No te voy a permitir, ni a ti, ni al profe, te insultes a mi gente, a ti, te mando la mia. Vuelta amigo, campeonato, no me vas a decirte lo que debo hacer, tu y quien mas, digo a ti, aquí tengo al profe, aquí tienes a Raios, asi que viva Raios, viva Peruv, viva... La Revolucion. Es, viva Peruvio. Es, viva Peruvio. Ohhhh! Yrra! Viva! Grazie E' stato un raios, di te creer que es ¡Dante Caballero! Pero lo que no lo sabe, no ando solo, yo ando con el manejado Dante Caballero ¡Dante Caballero! Y yo estoy aquí representando los intereses de él Independientemente de mi profe, esté con tus intereses El profe y yo nos conocemos hace más de 45 años Cuando tu no habias nacido vida de mierda ¡Oh! Así Que te lo puedes contar porque eres campeón Yo quiero que la lucha estuvo importante ¡Aquí y ahora! ¡Aquí y ahora! ¡Sí! 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 Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti